Le forti raffiche di vento di domenica scorsa hanno reso ancora più evidente la necessità di creare un servizio finalizzato ad avvisare quante più persone possibili in caso di emergenza. Oggi tutti dispongono di un telefono cellulare, quasi tutti utilizzano WhatsApp. Nasce da qui l'idea di creare proprio su WhatsApp una lista di broadcast per inviare informazioni di protezione civile. Il servizio sarà gestito direttamente dal consigliere comunale delegato alla protezione civile Maurizio Paolillo. Chi fosse interessato ad essere inserito nella lista per ricevere i messaggi scrive in una nota Paolillo potrà farlo inviando una mail all'indirizzo paolillomaurizio chiocciolagmail.com. Attraverso il servizio verranno diramati gli avvisi di protezione civile direttamente provenienti dalla sala operativa regionale oppure avvisi e istruzioni a cura del servizio comunale, come già avviene attraverso la pagina Facebook Protezione Civile Città di Capaccio.